Come segretario generale dell'ALDA, che è l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, abbiamo sottoscritto e promuoviamo la firma per l'ICE del New Deal for Europe, perché sappiamo che sarà una risposta ai problemi economici, ambientali e di sviluppo sociale dell'Unione Europea. Per tutti noi, per i nostri cidadini, andiamo a firmarla.